Siringhe usate per farsi di eroina, senza cappuccio di protezione, a pochi metri dal giardinetto dell'asilo. Siamo appena all'interno del Parco Pertini, il polmone verde della città di Arezzo, e questa è la desolante e preoccupante situazione che immortalano le nostre telecamere. Sotto al Grande Pino si contano almeno tre cappucci e due siringhe usate, altre ce ne sono nei pressi del bar. Così, alla luce del sole, alla portata di tutti, bambini compresi. Il fenomeno dell'uso ritornato in auge della pericolosissima eroina ce l'hanno raccontato pochi giorni fa di nuovo i carabinieri di Arezzo, che hanno arrestato 11 spacciatori tra magrebini e albanesi, che con un tacito accordo si erano suddivisi il territorio, con gli albanesi alla periferia e di nordafricani nel centro città e al Parco del Pionta, dove rifornivano studenti, giovani, anche minori, di eroina e cocaina. Proprio al Pionta abbiamo trovato anche uno dei punti dove i nuovi eroinomani si facevano, anzi, si fanno. Siringhe piantate nel terreno oppure gettate nelle grate si trovano a partire dall'ingresso secondario della palazzina donne del campus universitario fino al terreno incolto che si trova dietro all'ufficio protesi. Tra bottiglie di birra, sporcizie e escrementi umani si contano decine di siringhe usate. Il Pionta, con i suoi mille anfratti preda del degrado, è il luogo ideale per nascondersi e per creare anche questo, che sembra un salottino improvvisato al riparo dagli sguardi indiscreti, che resterà così frequentato da gatti selvatici e nuovi tossici se qualcuno non interverrà.